una storia parigina inedita quella celebre frase di pascal sul granellino di sabbia la conoscono tutti il destino dell'universo mutò in questo modo e determinò la fine della fortuna di cromwell allo stesso modo nel grande corso bizzarro degli avvenimenti che governano l'uomo e il mondo un fatto insignificante il testo disperato di una donna cambiò il destino dell'europa salvando la vita del giovane napoleone buonaparte che diventò napoleone il grande è una pagina di storia ignorata perché tutto quel che riguarda la vita di quel genio è storia un vero dramma corso che per poco non fu fatale al giovane ufficiale allora in congedo nella sua patria il racconto che segue è del tutto autentico l'ho scritto quasi sotto dettatura senza cambiarvi niente senza omettere niente senza cercare di renderlo più letterario o più drammatico lasciando i nudi fatti nella loro semplicità con tutti i nomi e tutte le azioni dei personaggi e le battute che pronunciarono forse potrebbe piacere maggiormente una narrazione più artefatta ma questa è storia e la storia non si tocca ho avuto il particolare di questo racconto dal solo uomo che abbia potuto attintergli all'assorgente e che ha orientato con la sua testimonianza l'inchiesta aperta su questi stessi fatti verso il 1853 quando si trattò di dare esecuzione ai legati testamentari dell'imperatore morto a sant'elena infatti napoleone aggiunse tre giorni prima della morte al testamento un codicillo che conteneva questa disposizione leggo franchi 2000 all'abitante di bocconiano che mi salvò dalle mani dei briganti che volevano assassinarmi leggo franchi 10.000 al signor vizza nova il solo di questa famiglia che fosse del mio partito leggo franchi 100.000 al signor geronimo levi leggo franchi 100.000 al signor costa di bastelica leggo franchi 20.000 all'abate recco il fatto è che un lontano ricordo di gioventù gli era tornato in mente in quegli ultimi momenti dopo tanti anni e tante prodigiose avventura l'impressione d'una delle prime violente emozioni rimaneva ancora abbastanza forte per perseguitarlo anche nelle ore dell'agonia quella lontana visione l'ossessionava anche quando prese la decisione di lasciare quei doni supremi al devoto sostenitore di cui la sua memoria fievolita non ricordava il nome e agli amici che gli avevano arrecato aiuto in terribili circostanze Luigi XVI era appena morto la Corsica era governata dal generale Paoli uomo energico e violento realista devoto che detestava la rivoluzione mentre Napoleone Bonaparte giovane ufficiale di artiglieria allora in congedo ad Aiaccio adoperava tutta l'influenza sua e quella della sua famiglia in favore delle idee nuove non esistevano caffè in quel paese selvaggio e Napoleone riuniva i suoi seguaci alla sera in una stanza dove si discuteva si preparavano progetti si prendevano risoluzioni si prendeva l'avvenire bevendo vino e mangiando fichi c'era già una ruggine tra il giovane Bonaparte e il generale Paoli era nata così Paoli che aveva ricevuto l'ordine di conquistare l'isola della Maddalena affidò tale missione al colonnello Cesari raccomandandogli si dice di far fallire l'impresa Napoleone nominato tenente colonnello dalla Guardia Nazionale nel reggimento comandato dal colonnello Quenza partecipò alla spedizione e in seguito protestò vivacemente contro il modo con cui era stata condotta accusando apertamente i capi di aver voluto comprometterne l'esito qualche tempo dopo alcuni commissari della Repubblica tra cui si trovava Saliceti furono inviati a Bastia quando Napoleone seppe del loro arrivo volle raggiungerli e per farlo chiamò da Bocconiano il suo uomo di fiducia uno dei suoi sostenitori più fedeli Santo Bonelli detto Riccio per chi gli facesse da guida partirono entrambi a cavallo dirigendosi verso Corte dove si trovava il generale Paoli che Napoleone voleva vedere dato che raggiungeva quel luogo durante il viaggio ignorando in quel momento la partecipazione del suo capo al complotto tramato contro la Francia lo difendeva anche dai sospetti che si sussurravano contro di lui l'ostilità tra i due anche se latente non era ancora esplosa il giovane Napoleone scese da cavallo nel cortile della casa dove risiedeva Paoli e dopo aver affidato il cavallo a Santo Rizzo volle andare subito dal generale mentre saliva le scale incontrò una persona che gli riferì che in quello stesso momento si stava svolgendo una specie di consiglio formato dai principali esponenti politici della Corsica tutti nemici delle idee repubblicane egli allora cercò di saperne di più quando uno dei cospiratori uscì dalla riunione Buonaparte gli andò incontro e gli domandò dunque l'altro credendo in un alleato rispose è fatta proclameremo l'indipendenza e ci separeremo dalla Francia con l'aiuto dell'Inghilterra Napoleone indignato andò su tutte le furie e gridò battendo il piede a terra è un tradimento un'infamia proprio nel momento in cui apparivano altri uomini attirati da quel frastuono erano dei lontani parenti della famiglia Buonaparte costoro rendendosi conto del pericolo in cui si trovava il giovane Buonaparte dato che Paoli era uomo capace di sbarazzarsi di lui per sempre e subito lo circondarono lo fecero scendere all'ingresso e risalire a cavallo Napoleone si mosse subito andando verso Agiaccio sempre in compagnia di Santo Riccio verso sera arrivarono alla cascina di Arca del Vivario dormirono in casa del parroco Arrighi parenti di Napoleone il giovane lo informò dell'accaduto e gli chiese consiglio trattandosi di persona di superiore intelligenza e di mente retta stimata in tutta la Corsica ripartirono all'alba del giorno successivo e andarono avanti tutta la giornata per giungere a sera alle prime case del villaggio di Bocconiano lì Napoleone si separò dalla sua guida raccomandandogli di trovarsi la mattina dopo con i cavalli all'incrocio delle due strade e arrivò alla cascina di Poggiola per chiedere ospitalità a Felice Tusoli suo seguace e parente che abitava in una casa un po' appartata nel frattempo il generale Paoli era venuto a conoscenza della visita del giovane Bonaparte e delle sue violente parole alla scoperta del complotto incaricò allora Mario Peraldi di inseguirlo e di impedirgli a ogni costo di arrivare ad Agiaccio o a Bastia Mario Peraldi arrivò a Bocconiano alcune ore prima di Napoleone e andò a casa dei Morelli una famiglia molto potente che parteggiava per il generale presto vennero a conoscenza che il giovane ufficiale era arrivato in paese e che avrebbe passato la notte in casa dei Tusoli allora il capo dei Morelli uomo enersico e temibile dopo aver ricevuto l'ordine del Paoli promise al suo rappresentante che Napoleone non sarebbe scampato ad un agguato prima del giorno aveva già fatto appostare i suoi accoliti che controllavano tutte le strade e le vie di uscita Bonaparte accompagnato dal suo ospite uscì per andare da Santo Riccio ma Tusoli che era indisposto e aveva la testa avvolta in una sciarpa se ne tornò quasi subito a casa appena il giovane ufficiale rimase solo gli venne incontro un uomo per comunicargli che in una locanda vicina c'erano dei sostenitori del generale che si stavano dirigendo verso corte per raggiungerlo Napoleone andò da loro e li trovò riuniti disse loro andate andate dal vostro capo state commettendo un'azione grande e nobile ma in quel momento i Morelli si precipitarono nella locanda gli si buttarono addosso e lo fecero prigioniero Santo Riccio che lo stava aspettando all'incrocio delle due strade venne subito a conoscenza del sequestro e corse da un seguace di Bonaparte chiamato Vizzanova che sapeva potergli essere di aiuto e che abitava nei pressi della casa dei Morelli in cui Bonaparte sarebbe stato rinchiuso Santo Riccio aveva capito l'estrema gravità della situazione disse se non riusciamo a liberarlo subito è finito morrà prima delle due Vizzanova andò allora in casa dei Morelli li interrogò con abilità e poiché nascondevano le loro intenzioni reali li indusse con abile eloquenza ad acconsentire che il giovane che si avrebbero comunque sorvegliato venisse a mangiare qualcosa in casa sua per nascondere i loro veri progetti i Morelli accettarono e il capo, l'unico che conosceva le disposizioni del generale Paoli affidò loro la sorveglianza del posto e fece ritorno a casa per prepararsi alla partenza la vita del prigioniero fu salvata proprio da questa sua assenza qualche minuto dopo intanto Santo Riccio con quella dedizione a tutta prova che è tipica dei corsi con un sangue freddo eccezionale e intrepida audacia stava preparando la liberazione del suo compagno prese con sé due giovanotti coraggiosi e fedeli quanto lui li condusse nascostamente in un giardino confinante con la casa di Vizzanova facendogli aspettare dietro un muro poi si presentò in tutta tranquillità ai Morelli domandando il permesso di salutare Napoleone prima che fosse condotto via il favore venne accordato e Santo Riccio appena fu di fronte a buona parte a Vizzanova l'informò del suo piano e l'incitò alla fuga dato che il più piccolo ritardo poteva essere fatale andarono tutti e tre nella scuderia e sulla porta Vizzanova con le lacrime agli occhi abbracciò il suo ospite e gli disse che Dio ti salvi, caro ragazzo soltanto lui lo può Napoleone e Santo Riccio raggiunsero strisciando Carponi due giovani in agguato dietro il muro poi tutti fuggirono a gambe elevate verso una fontana vicina nascosta tra gli alberi ma dovevano passare vicino al gruppo dei Morelli i quali, avendoli individuati si dettero al loro inseguimento gridando a squarciagola il capo dei Morelli, tornato a casa li udì comprese tutto e si slanciò con un'espressione talmente feroce che sua moglie, imparentata coi tusoli presso i quali Bonaparte aveva trascorso la notte si buttò a supplicare ai suoi piedi la salvezza del giovane Napoleone lui, fuori di sé, la respinse e stava per precipitarsi fuori quando lei, sempre in ginocchio lo afferrò alle gambe stringendogliele tra le braccia convulse venne percossa venne trascinata ma senza cedere la presa riuscì a far cadere il marito accanto a lei senza la forza e il coraggio di quella donna Napoleone sarebbe stato ucciso e tutta la storia moderna avrebbe preso un'altra piega la memoria degli uomini non avrebbe ricordato i nomi di tante splendide vittorie milioni di persone non sarebbero morte sotto i colpi del cannone la carta d'Europa non sarebbe la stessa e chissà sotto quale regime politico si troveremo al giorno d'oggi il gruppo dei morelli era sul punto di raggiungere i fuggitivi santoriccio intrepido li affrontò riparandosi dietro il tronco di un castagno gridò ai due giovani di far fuggire Bonaparte ma questi rifiutò di lasciar solo la sua guida che urlava tenendo i nemici sotto mira portatelo via vi dico prendetelo per le mani e per i piedi e portatelo via furono raggiunti circondati fatti prigionieri e in seguaccia dei morelli un certo onorato poggiò la canna del fucile contro la tempia di Napoleone gridando morte al traditore della patria ma in quell'istante arrivò scortato da parenti bene armati colui che aveva ospitato Bonaparte felice Tusoli avvertito da un emissario di santoriccio egli comprese il pericolo e riconobbe in suo cognato colui che stava per uccidere il suo ospite allora prendendolo di mira gli gridò onorato dobbiamo sistemare la faccenda tra noi due l'altro sorpreso esitò a sparare e santoriccio approfittò della confusione lasciando i contendenti intenti a scontrarsi o a spararsi reciprocamente afferrò alla vita Napoleone che ancora poneva resistenza lo tracinò via con l'aiuto dei due giovani e sparì nella macchia qualche minuto dopo il capo dei morelli liberandosi di sua moglie e in preda a una terribile collera raggiunse i suoi seguaci intanto i fuggitivi correvano attraverso alture gole e forre quando furono al sicuro santoriccio mandò indietro i due giovani ordinando loro di raggiungerli il giorno dopo con i cavalli al ponte di Ucciani al momento della separazione Napoleone si avvicinò a loro e disse sto per tornare in Franza volete venire con me? quale che sia la mia sorte la divideremo insieme essi gli risposero la nostra vita è vostra fatene quel che volete ma non lasceremo il nostro paese i due semplici e fedeli giovani fecero ritorno a Bocconiano per prendere i cavalli mentre Bonaparte e Santo Rizzo continuarono la loro faticosa marcia in mezzo a tutti quegli ostacoli che rendono tanto difficile spostarsi in luoghi montagnosi e impervi lungo la strada si fermarono a mangiare un tozzo di pane dalla famiglia Manzini e a sera arrivarono a Ucciani in casa dei Pozzoli sostenitori di Bonaparte al suo risveglio il mattino seguente Napoleone vide la casa circondata da uomini in armi erano parenti e amici dei suoi ospiti pronti ad accompagnarlo o a morire per lui i cavalli aspettavano vicino al ponte il gruppo si incamminò scortando il fuggitivo fino alle porte di Ajaccio appena scese la sera Napoleone entrò in città e trovò rifugio in casa del sindaco Jean-Géran Lévy che lo fece nascondere dentro un armadio a muro utile precauzione dato che il giorno dopo arrivò la polizia e frugò dappertutto senza trovare niente e poi andò via confusa l'allabile indignazione del sindaco che offrì un premuroso appoggio nella ricerca del giovane ribelle quella stessa notte Napoleone venne portato in barca dall'altra parte del golfo affidato ai coste di Bastelica e nascosto nella macchia la storia dell'assalto che gli avrebbe sostenuto nella torre di Capitello storia emozionante pubblicata nelle guide è pura invenzione falsa come buona parte delle informazioni fornite da quella gente falsa come buona parte delle informazioni fornite da quella gente troppo ricca di fantasia alcuni giorni dopo venne proclamata l'indipendenza della Corsica la casa dei buona parte fu incendiata e le tre sorelle del fuggitivo messe sotto la custodia del reverendo Recco poi una fregata francese che raccoglieva sulla costa gli ultimi sostenitori della Francia prese a bordo e ricondussa in patria Napoleone perseguitato e braccato proprio colui che sarebbe divenuto l'imperatore e lo straordinario generale che stravolse il mondo e lo Grazie a tutti.